Raga, i primi giorni della mia vita in Giappone, i primi, diciamo la prima settimana, i 3-4 giorni Che è successo? Che è successo? Poi parliamo di oltre 8 anni fa Io ho preso un volo aereo dall'Australia, da Perth per Tokyo Perché io vivevo in Australia da circa 3 anni e mezzo E là ho incontrato la mia ragazza nel 2014 Quindi la relazione nate in Australia, abbiamo fatto convivenza in Australia per un piccolo periodo Abbiamo fatto un altro periodo di relazione a distanza dove abbiamo deciso che perché non provarci E visto che lei ha finito gli studi e ha iniziato un lavoro in azienda a cui ci teneva tanto Ho detto guarda vengo io e mi sono spostato in Giappone L'ho raggiunta qui E ho fatto un visto per studenti E devo fare le classiche cose, andare alla scuola, prendere i documenti Quindi poi all'epoca ancora All'epoca si ritirava il documento di identità giapponese all'ufficio di immigrazione La scuola si occupava di questo Cioè c'era un addetto che prendeva i documenti e poi andava a recuperare i documenti dell'ufficio di immigrazione Quindi era solo la classica routine Ma dove è stata la mia situazione? Io ho avuto un problema quando sono arrivato all'aeroporto a Narita Perché io ho fatto una richiesta di visto Automaticamente io pensavo che mi veniva concesso E automaticamente non ho combinato il foglio Quello che si compila Per quanto tempo ti fermi? E l'ho messo un anno E sono stato portato all'ufficio di immigrazione per fare una forma di accertamento E gli ho fatto tutta la documentazione Che io ho fatto la richiesta di visto di studio Allora sembrava strana sta cosa Perché la richiesta c'era Infatti io avevo l'Ulla Osta Avevo tutta la documentazione Ma non avevo il visto sul passaporto Perché in certi casi Mi è stato detto Mi è stato detto a mia moglie All'epoca la mia fianzata Sesso dall'ufficio di immigrazione giapponese Ecco vi dico io Controllate Non vi datevi sempre Mi è stato detto a mia moglie Che in casi eccezionali Di una situazione come questa qua Volendo potevano concedermi il visto Da studente direttamente Una volta che io raggiungevo Il Giappone dall'Australia Ma non era vero La gente di immigrazione ha detto una cavolata a mia moglie Non era una cosa Non funzionava così A meno Chi era all'epoca Si voleva prendere la responsabilità Di far fare sta cosa Poi la persona che era là E cambiata Automaticamente è andata a farsi bene E sono rimasto in una forma di limbo Ero col turistico E non potevo richiedervi sto Da studente Quindi ho dovuto fare un billetterio Per rientrare in Italia A tre settimane di stanza Per cercare di non farmi Di prenderlo Meno caro possibile Ma stando sempre nel periodo Perché non è che potevo sta tanto Anche perché Quando sono arrivato In Giappone È stata una cosa totalmente Tutta quanta Ogni giorno c'era cosa da fare Perché io ho fatto Sì ok Primo giovedì Con la mia ragazza a Tokyo Poi siamo venuti qua a Sendai Ho fatto la cena A casa dei miei suoceri Ci siamo incontrati La prima volta Ho fatto pure il video Mi ho mangiato Ho bevuto Dopo un'oretta Stavamo ombriachi Io e il mio suocero Cercavamo di capirci Lui in giapponese Io in inglese Ma È stata una comica Però il rapporto È andato subito bene Sono rimasto dormire a casa loro Perché la casa C'era la casa in affitto Mia moglie L'aveva trovata Ma non era redata Quindi noi giorno dopo Dovamo già fare tutti i giri Ikea Negozi E io dovevo fare Dovevo comprarmi I vestiti Perché io venivo Dall'estate australiana E qua era inverno E non avevo niente io da mettere Quindi è stato un casino Abbiamo passato Il primo di due settimane A cercare di Riorganizzarci Perché mia moglie Andavo pure a lavorare Quindi che succedeva Mi occupavo io Cioè Quando arriva Sono arrivati i mobili Ho montato io Sistema quello Sistema quell'altro Fai una cosa Fai un'altra La scuola ancora Non era iniziata Perché io Ho anticipato I tempi Proprio per evitare Altri casini Quindi è stata una situazione così Cioè io ho visto il Giappone Non come Non dalla data turista L'ho visto dalla persona Che cominciava Una relazione Quindi è stato interessante Che L'immigrazione Mi aveva creato un problema Che poi Io sono dovuto rientrare in Italia Rientrare in Giappone Un giro di due o tre settimane Scarse manco Due settimane scarse Però con la scuola Sono riuscito a vedere I miei genitori Però In quella In quella parentesi Ho dovuto fare una scappata A Roma Perché l'ambasciata Giapponese A Roma Quindi mi sono dovuto Mette Il visto Sul passaporto Il visto Studente sul passaporto E tutto fa Andando un giorno A Roma Fai la documentazione Torna È stato un casino E tutto questo I miei È passata È passata la mia vita Mia madre È sempre sottolineata All'amore Il rispetto E La gratitudine Che aveva Nei confronti Di mia moglie È sempre Mia madre Perché Non so Le mamme hanno Quel sesto senso Di sentire Il profumo Del eventuale pericolo Quando ti dici Qualche maschietto Che guarda Forse mi dà ragione Quando la mamma Dice A me non mi piace Quella ragazza Che ti gira intorno Quella cosa è là Quel sesto senso Che hanno le mamme Per proteggere i figli Mia madre È sempre avuto Con un sesto senso Sempre che mi ha detto Ci ha sempre Azzercato Ci ha azzerca Sempre E mia moglie Ce l'aveva visto Bene Ce l'aveva visto lontano E Gli è piaciuta Questa cosa Infatti Immaginate La telefonata Ma Io vado In Giappone Fra sei mesi Io vado in Giappone Lascio la strada Ma come Così I miei genitori L'hanno vista così Ma tu hai fatto una mofi Nel giorno primo Eri là Stai via fa Hai costruito la tua vita Cercato di ingastrare la tua vita Qua in Australia Sei ancora per la via No? Di creare una certa stabilità E che fa Lasci tutto Sì Lascio tutto Otto anni dopo È stata la scelta Pazza Ma la migliore scelta Che ho fatto Anvita me Che adesso vedete Quella situazione Qual è Una relazione Fortissima Due Due angioletti in casa Che Ringraziano le fortuna La fortuna È tutto Ringraziano Tutto I medici Questiasi cose Tutta la situazione Come è andata Andrà due letti Io sul pavimento Non ci dormo Io ho detto No Non ce la posso fare Che loro c'è il futon Se le cose qua Ok Belon ci va E le terme Ma non riesco Perché comunque Se mi ho lavorato tanto Fisicamente La schiena Ce l'ho Come ce l'ho Dormire troppo tempo Su quel pavimento Non è che poi sia il massimo Onestamente Questa è una cosa Che Mi ha detto Mia moglie subito Anche se la casa è piccola Deve entrarci Le Deve entrarci due letti Perché pure tu devi dormire bene Che la mattina vai a lavorare E questo è Volevo raccontarvi Questa Questa prima settimana Questo periodo Fatto di Di situazioni Casini Che è durato Un paio di settimane No? E dove Mi ho cercato di risolvere Tutto qua Spero che Vi siete stati Dei vostri interessi Anche per conoscere meglio me Per conoscere meglio la mia storia Un bacio Fate bravi E ci becchiamo